Buon pomeriggio ad Alessio Il Sinner, il mio salvatore, buon pomeriggio al nostro pubblico. Allora, tanti gli argomenti anche oggi, in primo piano, inevitabilmente la vicenda di Banquetruria, varrebbe la pena dire l'ennesimo capitolo su Banquetruria, ne parleremo ovviamente, tra l'altro cercheremo di guardarla dalla parte dei risparmiatori, però prima io voglio proporvi un viaggio indietro nel tempo, cioè voglio partire, pensate un po' da Traiano, il più grande imperatore romano, quello che portò a Roma, l'impero romano, al più grande successo possibile. Intanto saluto, è collegata con noi da Milano, Eva Cantarella, studiosa del diritto antico. Ben trovata, professoressa Cantarella. Facciamo una cosa, faccio vedere a lei e al nostro pubblico una mostra che c'è a Roma, molto bella, molto ben impostata, proprio su Traiano, e poi arrivo da lei, così ci spiega anche quale messaggio potrebbe arrivarci da Traiano oggi. Vediamo un po' il servizio. Valoroso comandante, ottimo amministratore e politico sotto la cui guida, l'impero romano raggiunse la sua massima espansione, consegnandolo al popolo e alla storia come Optimus Princeps, ovvero il migliore tra gli imperatori. Traiano è protagonista di una mostra a Roma che lo celebra nei mercati creati proprio da lui fino al prossimo settembre. Traiano era un grande generale ed era amato da suoi soldati perché si prendeva le sue responsabilità. Fu ad esempio l'unico imperatore pagano che venne inserito da Dante nel Paradiso, perché si ricorda sempre la clemenza e la giustizia di Traiano. I romani qui vengono rappresentati mentre costruiscono, è il genio militare, è il genio romano, è la romanizzazione che si esprime attraverso l'urbanizzazione. Traiano aveva un nutrito gruppo di donne che lo circondava, erano imprenditrici, erano donne molto ricche ma anche che facevano molta beneficenza. A Traiano si deve molta edilizia pubblica dell'epoca ed opere ammirate ancora in tutto il mondo come i mercati, il foro romano, le terne, l'acquedotto che portava l'acqua dal lago di Bracciano alla capitale, il porto esagonale di Fiumicino e la maestosa colonna traiana in cui fu tumulato. I ponti vennero costruiti ovviamente per esigenze militari ma poi furono espressione della comunicazione tra popoli. In occasione della mostra viene svelata in un video quella che molto probabilmente fu la casa di Traiano scoperta a 10 metri sottoterra all'Aventino, stanze private con affreschi intatti. Rispettato dal senato e amato dal popolo, Traiano fu il primo non romano a diventare imperatore, non per tradizione ma per merito. Conquistò il consenso urbanizzando e civilizzando i territori sotto il suo dominio. Non distrusse la cultura di quei territori, si integrò in quella cultura creando una nuova cultura, tra virgolette potremmo dire miticcia, che permise popoli che non si conoscevano e che erano distanti di essere partecipi di un progetto comune. Eccoci qua, professoressa Cantarella, dunque Traiano, portò l'impero romano alla sua massima espansione, viene considerato appunto l'optimus princeps, ma è vero che era un uomo nato in una famiglia molto semplice che aveva venuto fuori praticamente dal nulla? Beh, in un certo senso sì, ma non proprio dal nulla, nel dal nulla nel senso che non viene da una famiglia diciamo imperiale, viene da una famiglia senatoriale, ma il padre era un militare, questa è la grande novità, e tra l'altro non era italico, era ispanico, viene dalla Spagna il primo imperatore che viene, non è ancora imperatore, principe che viene fuori dall'Italia, e viene eletto per i suoi meriti militari, questa è la cosa importante di Traiano, Traiano è veramente, viene eletto tra l'altro con un metodo diverso dal solito, perché lui viene eletto per adozione, il primo secolo era stato un secolo tremendo per i romani, perché Augusto, dalla morte di Augusto in poi c'era stato veramente un periodo tremendo, nel quale le lotte per la successione al potere erano state insopportabili, perché ciascun prince, ciascun potente voleva che il potere restasse a qualcuno della sua famiglia, tanto Augusto cominciava a non avere i discendenti suoi, perché i suoi figli, i suoi figli di sua figlia erano morti, si diceva addirittura per mano della sua moglie Lidia Drusilla, insomma questo è un altro problema, e via dicendo, ci sono allora il suo erede, è il figlio di primo letto della moglie, e per tutto il primo secolo noi abbiamo una serie di imperatori che si sosseguono, che non hanno lasciato una grande traccia di sé, e poi però arriva lui, no? Lui arriva per adozione, lui arriva dopo l'anno dei famosi quattro imperatori, dopo la morte di Nerone, in un anno varie legioni, ogni legione eleggeva un suo imperatore, c'erano i soldati che eleggevano, e dopo quell'anno famoso dei quattro imperatori viene eletto dal senato Nerva, Nerva che adotta Traiano, e lo adotta proprio per le sue qualità personali. Dopodiché Traiano ha sicuramente qualità di stratega, diciamo militare, però ha anche evidentemente altre qualità, perché poi era molto amato dal popolo, oltre che dai soldati, è così? Era amato da tutti, era amato da tutti, perché era amato dai suoi soldati, era amato dal senato, era amato dal popolo, era veramente un imperatore che si era conquistato, ma giustamente con i suoi meriti, non a caso viene chiamato l'Optimus Princeps, e tra l'altro si dice Optimus è il migliore veramente perché è stato eletto per i suoi meriti adottato, quindi non eletto appunto. Cerchiamo di far capire in cosa risiede l'eccezionalità di Traiano, ad esempio leggo che uno dei consoli di Traiano era Plinio il Giovane, il quale scriveva diverse lettere all'imperatore, in una di queste lettere chiede all'imperatore come deve comportarsi con i cristiani, cosa risponde Traiano? Sì, ha scritto molte volte Plinio il Giovane, intanto già nel 100 gli fa il primo panegirico, ma più avanti nel tempo a un certo punto si trova di fronte a un problema, i cristiani sono molti e lui non sa come comportarsi perché fino a quel punto non c'è una regola di comportamento, e allora lui chiede ma cosa devo fare con questi cristiani? Sono tantissimi, si rifiutano di celebrare i nostri dei, celebrano un altro dio, chiede in che modo deve punirli e la risposta è molto interessante perché Traiano dice intanto non devi punirli, non devi fare inchieste, non devi essere tu a cercarli, andare a cercare i cristiani, perché ci sia un processo e bisogna che un privato faccia una denuncia a un'autorità. E questa era una risposta di grande magnanimità per l'epoca? Non solo, ma dice anche che non bisogna, insomma è una risposta assolutamente straordinaria per l'epoca ed ha lasciato una traccia molto importante. In privato vi dice chi era la moglie di Traiano? Ah era un personaggio singolare, questa plotina, è un matrimonio strano, strano diciamo in un certo senso per i romani, per i romani come sapete la cosa più importante, la funzione della donna era procreare dei figli. Lui sposa questa donna, si sposa con lei quando non è ancora imperatore, vivono assieme tutta la vita, lei gli sopravvive, non hanno figli, eppure non si lasciano mai, lei è molto importante, ma la cosa interessante di questa plotina è che lui la dichiara Augusta, cosa che non sempre si fa, e vengono battute delle monete con la sua immagine, grazie alla quale noi sappiamo che lei è speciale, perché molte volte per capire il significato delle monete bisogna guardare il retro, cosa c'è dietro all'immagine della persona rappresentata, dietro a plotina c'è spesso vesta, e vesta chi è? Vesta è l'immagine della perfezione femminile, le sacerdotesse vestali erano casta intanto, questo è anche singolare perché lei è una donna sposata, ma è casta, non ha figli però, erano il modello assoluto del matrone, e quindi lei è il modello assoluto della matrona. Infine, professoressa Cantarella, le chiedo, Traiano, cosa potrebbe insegnare oggi ai politici in un momento in cui la nostra politica è così, diciamo, in crisi di credibilità, di rappresentanza? Beh, potrebbe insegnare molte cose, perché Traiano ha conquistato, con Traiano l'impero ha raggiunto il massimo della sua espansione, veramente, e quindi all'interno dell'impero convivevano popolazioni profondamente diverse, come stirpe, come cultura, e Traiano, grazie a Traiano, spiega, non lo spiega a parole, ma insomma si capisce la sua concezione del potere, il potere non consiste, consiste nel cercare di fare condividere alle persone quanto più possibile, quindi integrare, integrare e non solamente sottomettere, credo che la lezione sia questa.